musica ma che è questa cosa? devi comunque capire anche come andare devo capire? anche come andare di sopra di sopra è probabilmente la ma che? sto andando di sopra adesso e come succede? ma io non ho fatto niente tu pensi di non aver fatto niente? sono semplicemente morto sono morto ma prima di morire hai fatto qualcosa io non sono così sicuro di aver fatto qualcosa l'hai fatta, l'hai fatta che l'hai vista che l'ho fatta? si ma che cazzo visioni di tristezza non sei vicini? si, volevo vedere in giro mi ricordo i giganti di Dark Souls 1 fare la pace io aiuto quando vuoi giovane ramo bianco grazie ok quindi ora non mi spari più? pensi guarda il ramo che ti ho dato è diverso il ramo? si giovane ramo bianco no ah aspetta no il ramo di betula bianca come simbolo d'amicizia di un gigante trasformati nell'ambiente circolastico buon amico non colpire e no che non ti colpisco mannaia ok che? ma tu sei la? eh si in qualche modo è riuscito a salire ad un piano tra quello attuale ad un piano tra quello attuale e a metà mh devi capire come raggiungere ma a sinistra o a destra è salito questo qua? ora ti attorno quando percorro l'ascensore e per iniziare a puntare qualcosa ok ma la cosa è che io non so ancora come cazzo ho fatto a cambiare la cosa dell'ascensore mmm ah non non sparire più così mi hai fatto preoccupare moltissima ho sciolto l'unigma ovvero? a alcuni giorni sono vedi quella bestia massuosa ma ho una ma quella ma quella mi dà i bri eh si quale strada? questa strada? potrei cercare no ho ho potrei Ma in realtà c'era quella bestia sotto che vorrei... No, quella si fa dopo. Si fa dopo? Si fa dopo, si fa dopo. E come cazzo ho fatto a fare il coso? Non lo capisco. Poi? Semplicemente dovevo morirci per farlo fare? No, no, non c'entravo. Perché ha detto che l'ha fatto lui, non l'ho fatto io. No, no, l'hai fatto tu, riascoltato. Avrei dovuto aspettare. Credo che sei riuscito a fare tutto. No! No, che ti fai male. No, che muori. Ho già rotto la tua quest. Vabbè, sono morto io, dai. No, non devi morire tu. Come? Come? Non dovevi morire. Come non dovevo morire? Mi sa di sì. Io l'ho fatto. E vabbè. Il cane è caduto. Ti prego, si vivo, si vivo. Sì, è qua. Ha fatto un... Ho sentito... E' ancora tutto a posto. E dice che avrei dovuto aspettare. Ma aspettare cosa? Ah, che capiva cosa fare contro voi. E non c'è da capire. Esatto, se tu non scendi tu non fai male. Perché è indeciso. Però non mi ha visto. Ok. E se muore lui, è un altro problema. Si è infiammato sto cazzo di cosa. Sto capicchiando le palle che ha dispensiato. No, sono morto. Eh, lo capisco. Infatti non è che mi stia lamentando di qualcosa. No! Perché adesso sta scendendo? Davvero non ci sei arrivato ancora. Certo che no. Boh. Ti ricordo che posso essere molto scemo, eh. Ho capito, ma certe volte hai un'intuizione della Madonna e certe volte sei scemissimo. No, dovrebbe andare giù. Ok. Se invece salgo ora, dovrebbe salire su. Ok. No. Sono un cretino allora. Non comprendo. Allora, aspetta. Io credo che tu stia facendo. Ok, prendi l'ascensore e ti ritrovi sotto. Sì. Ok, adesso ti voglio fare una domanda. Se... Quando hai incontrato Sigvard eravate al piano terra. Sì. Se tu prendi l'ascensore e vai al piano meno uno e tu quando risali non lo trovi più. Cosa vuol dire? E tu quando risali non lo trovi più. Quando risalgo dove? Se tu poi riprendi l'ascensore. Sì. Ti trovi di nuovo lui. Ah, sì. No, lui mo' è seduto là. È seduto dove? È seduto al piano uno e mezzo. Uno e tre quarti. Allora. Tu praticamente adesso ti ritrovi a quale piano? Almeno uno. Ok. Tu quando sei risalito dal piano meno uno. Ma io penso questo. Tu hai incontrato Sigvard? Hai perso l'ascensore e sei sceso giù. Giusto? Sì. Quando sei risalito lo hai ritrovato a lui là. Al piano terra. Sono morto, non sono risalito. Per questo. Bene. Allora, facciamo che sia aggiornato. Ora. Proviamo a tornare nello stato. Immaginiamo che se tu prendessi l'ascensore. Se tu fossi ancora vivo. Prendi l'ascensore per tornare al piano terra. Dalmeno uno. E non lo trovi più. Perché è al piano uno e mezzo. Come pensi che ci sia arrivato? E ha ripreso l'ascensore. Ma l'ascensore ce l'ha vinto. Sono morto. L'ascensore è risalito da solo. No. Non può risalire da solo. L'ha chiamato con la leva. No. L'ha chiamato con la leva. No, perché l'ha scesuto fuori. Ci sono più ascensori. Ok. Grazie signore. Quindi sono due ripiani che fanno piano terra e piano uno. Oppure piano terra e piano uno. Allora. Eccolo qua. Perfetto. Sono stato più stupido del dovuto in questa fase. E ci piace. E' il bello della diretta. E lo sono diventato di nuovo perché ho preso l'ascensore per andare sotto. Va bene. Con calma. Allora. Nel caso l'ammazzassi. Quella specie di... Cosa opporeale. Respauna. Oppure un mob unico. Ovviamente sapere. Oppure no. Perché a fare il suo bordello. Facciamo i no. Mi sono abbastanza bruciato il cervello con sta puttanata dell'ascensore. Che non doveva. Non doveva farlo e invece me l'ha fatto. Tu come... Come cazzo è che poi sei sceso a metà e non sei salito fino a sopra? Quello non capisco. Eh. Adesso a questo ci arriviamo. Se lui è arrivato a un piano e mezzo. Cosa vuol dire? Che è un cretino. Sono salito sopra. Ma lui è arrivato a un piano e mezzo. Cosa vuol dire? Che è troppo pesante per arrivare al secondo. Che bello però. Un urlo di battaglia che fa. Andrei sono andato avanti. Mi hanno fatto le forze per... Perché? Ma hai staccato il gioco? No, no. No! Che è successo? Forse ho fatto un backstab all'NPC. Oppure si possono fare i backstab a questo. A sto coso enorme, se no. Alcuni nemici grandi. Perché ho fatto un backstab. Ma almeno l'ho fatto a questo qui, allora. Gemma del fronte. No, può darsi... Può darsi che tu lo abbia stunnato e gli hai... Ti hai rotto l'equilibrio. Noi ci hanno messo il dito e abbiamo compito da svolgere. Decozzo di sicuro. Sposta il sole splendere a lungo. Continuo a parlare finché non i soldi. Ah, mi hanno fatto il brindisi. E' ora che faccio il riposino. E' la cosa migliore. Più avanti. E' maledizione. Ah, lo scudone ammazzava qui. Aveva... Qualcosa di particolare. Mi pare la weapon art era me. No, è la cosa normale. Però aveva una meccanica. Lo scanso. Io adesso lo scanso. Sto schifo. Ok. Fammi vedere un attimo. No, no, non c'è scritto nulla. No, perché non mi ricordo se avevo mai preso la lancia. Ah, e qui adesso cova il terrore che si annita nella mente dei weapon. Qui è particolarmente efficace. E questa frase che sembra solo in descrizione effettivamente ti fa fare più danni contro tutti i non morti. Ok. Cioè quasi tutte... O quello che c'è nel gioco, forse. Fa danno in un'altra parte. E' davvero il cucino piccolo di quello lì? Io non ce l'ho trovato. Va bene. Un metodo, bene o male, lo sto trovando. La lancia invece fa recuperare più. Bene. Maledetto. Spada di Irithyll. Eh sì. Vediamo la spada per l'inizio. Lucerne. Spada di Irithyll. Ok. 12-14 potrei usarla. Fa congelamento pure. Medio. No. No. No.